video di notte camminando quindi la peggiore delle situazioni da honor 10 light lo stiamo quindi in sostanza mettendo in estremo difficoltà registrazione video mentre cammino full hd 30 fps non c'è stabilizzatore ottico quindi facciamo solo con quell'elettronico questo invece a 60 fps sempre in full hd non registra in 4k ma registra il 1080 60 fps nian buon anno hai qualcosa da dirci niente direi il silenzio la meditazione nian niente però trasmette un sacco di pace pace interiore buon anno questa è la luce dell'alba 60 fps in full hd da honor 10 light e devo dire che è meno peggio di quello che credessi ora come vedete la gamma dinamica non è proprio ampissimissima però tutto sommato non è malaccio